Allora io vado e starò via solo 5 giorni, intanto tu la lavatrice la sai fare, la lavastoviglie la sai fare, non c'ho bisogno che ti spiego, ok? Ciao, ciao, ciao Fai guarda se non so farmi una lavatrice, una lavastoviglie, se non so cucinare, dai, a 31 anni, va dai No, no, non te ne andavi, faccio il bravo, non te ne andavi No Pronto Michela? Ciao Senti sono organizzato una festa a casa, non è che puoi portare un'amica, quanti siamo? Allora con te la tua amica siamo 3 Amore io esco, ci vediamo dopo Giovanna, ciao Senti sto organizzando una festa bellissima a casa, quanti siamo? Guarda, siccome non viene due Buonanotte per chiunque c'è in casa sto andando a letto, sono sotto le coperte, sono inattaccabile Così era questo, ma perché sempre quando sono solo? Ho acceso la luce, inattaccabile Carla, come? Ah, Nicola, come chi? Marco, vuoi venire a casa mia? E siamo qui davanti alla palazzina che esplosa, ci hanno detto che lei è il responsabile, ci può dire cosa è successo? Guardi, sto facendo una doccia, poi ho girato un attimo il pomellino dell'acqua calda, boom, non ho capito più niente Scusi, lei è la prima volta che rimane da solo in casa? Sì Lei ha 30 anni? Sì Andiamocene Sì Rilassati, prendi un bel respiro, sei una donna forte e indipendente, quando ti senti triste pensa alla nuova fidanzata del tuo ex e sorridi Devo superare questa paura di vedere i film da solo, vediamo questo, no, questo fa paura, questo no, questo neanche Questo dal regista dell'ammazzatore e l'ammazzatore 2, dai vediamo questo, Babbi l'orsetto, sì È noccato, è noccato, è noccato, è noccato, è noccato, lo faccio fuori, lo faccio fuori Ci sono, eh, sono vivo, sono vivo, stanno buildando, stanno buildando, buildano, buildano, buildano Come due settimane? A mo? Più tempo per noi Arrivo, arrivo, arrivo Rispondi, rispondi, rispondi Ehi, ciao, ti surbo? Sì, sono le 3 di notte Sì, non ti preoccupare, non fa niente che sono le 3 di notte, devi farmi un favore gigantesco, è importantissimo Ci sei? Puoi cantarmi i soffici e kitty perché non riesco ad addormentarmi, per favore, io ti metto qui e tu la canti No, 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 questa è l'ultima volta Tu fallo, non ti preoccupare, vai Dolce kitty, soffice kitty, bel vincino tu Detenzione di stupefacenti fini di spaccio, questa l'accusa mossa a tipsy dei teletubbies, ha qualcosa da dirci a riguardo? Tipsy! Accusa è molto, molto pesante